Allora, siamo a Londra e volevo assaggiare, è più vicino, tanto si vede uguale, questa bevanda qua che è al cocco, 100% di cocco, ma della Maui, Maui insono. Adesso andiamo ad assaggiare e facciamo la recensione. No, non è in grattia, non mi piace, era più buona quella che avevo assaggiata l'ultima volta, assaggiata tu. Ma a me mi è schifo. Com'è? Fa di acqua sporca. Ecco, quindi questa qua l'abbiamo presa da Primark, vedete, è da di me Primark, abbiamo comprato questa qua che si trova lì alle casse e non è buona, no, un pound comunque. Ok, da Londra, un saluto da Sofia, ciao ciao e un saluto a me, ciao a tutti.